Francesco Giuseppe I d'Asburgo, un imperatore tra due secoli. Francesco Giuseppe I d'Asburgo, nato a Vienna il 18 agosto 1830 e morto nella stessa città il 21 novembre 1916, fu imperatore d'Austria e red Ungheria dal 1848 al 1916. Fu una delle figure più importanti della storia dell'Europa moderna, che vide il passaggio dall'età dell'illuminismo all'età della modernità. Francesco Giuseppe nacque in un periodo di grande fermento politico e sociale. La rivoluzione del 1848, che sconvolse l'Europa, mise in discussione l'ordine costituito e portò alla caduta di molti regimi monarchici. Francesco Giuseppe, che era ancora un ragazzo, fu costretto a fuggire da Vienna per rifugiarsi a Olmuz, in Moravia. Dopo la sconfitta della rivoluzione, Francesco Giuseppe tornò a Vienna e fu incoronato imperatore. Il suo regno fu caratterizzato da una serie di sfide, tra cui le guerre di unificazione italiana e tedesca, le rivolte nazionaliste nei territori dell'impero e la crescente tensione con la Russia. Nonostante le difficoltà, Francesco Giuseppe riuscì a mantenere l'impero d'Austria unito e a preservarne la sua posizione di grande potenza europea. Fu un abile statista che seppe guidare il suo paese attraverso un periodo di grandi cambiamenti. I suoi successi. Francesco Giuseppe ottenne diversi successi durante il suo regno. In campo politico, riuscì a consolidare il potere dell'Austria in Europa centrale e orientale. In campo economico, promosse lo sviluppo industriale e l'integrazione dei territori dell'impero. In campo sociale, introdusse una serie di riforme, tra cui l'abolizione della servitù della gleba e la promozione dell'istruzione. I suoi fallimenti. Francesco Giuseppe non fu esente da fallimenti. In campo militare, l'impero d'Austria fu sconfitto nella guerra franco-prussiana del 1870-71, che segnò la fine della sua egemonia in Germania. In campo diplomatico, Francesco Giuseppe non fu in grado di prevenire la prima guerra mondiale, che portò alla caduta dell'impero d'Austria-Ungheria. Il suo impatto sulla storia. Francesco Giuseppe è una figura controversa, ma è innegabile che abbia avuto un profondo impatto sulla storia dell'Europa. Il suo regno fu caratterizzato da una serie di cambiamenti epocali, tra cui l'unificazione italiana e tedesca, la nascita del movimento nazionalista e la prima guerra mondiale. Francesco Giuseppe fu un imperatore conservatore che non fu in grado di adattarsi ai cambiamenti della modernità. Tuttavia, fu anche un uomo di grande determinazione e caparbietà che seppe guidare il suo paese attraverso un periodo di grandi sfide. Un ritratto completo. Francesco Giuseppe era un uomo alto e magro, con i capelli neri e gli occhi azzurri. Era un uomo riservato e timido, ma anche molto determinato e ambizioso. Era un uomo religioso e conservatore, ma anche un sostenitore delle riforme sociali. Francesco Giuseppe era un marito e un padre amorevole. Era sposato con Elisabetta di Baviera, nota come Sissi, con cui ebbe quattro figli. Il loro matrimonio fu tormentato da diversi problemi, tra cui la morte prematura di due dei loro figli. Francesco Giuseppe morì a Vienna nel 1916 all'età di 86 anni. Fu un imperatore che ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia dell'Europa.